viaggiare vuol dire tante cose per alcuni di noi viaggiare vuol dire divertirsi non solo raggiungere una destinazione ma dare valore al percorso per altri viaggiare vuol dire lavorare vuol dire raggiungere un obiettivo personale c'è chi viaggia per allontanarsi e c'è chi viaggia per riconciliarsi per riabbracciare le persone lontanere per ognuno viaggiare vuol dire diverse cose ma per tutti vuol dire sicurezza prea lux passion for road safety